il vampiro di dusseldorf luogo omicidi germania periodo omicidi 1892 1930 numero vittime 30 più modus operandi vittime violentate e pugnalate in alcuni casi beveva il loro sangue catture provvedimenti condanna a morte tramite ghigliottina il 2 luglio 1931 un altro vampiro un altro pazzo scatenato mentre in america albert fish è già ricercato dalla polizia e ha compiuto la maggior parte dei suoi omicidi tra il febbraio e il novembre del 1929 in germania si scatena la follia del vampiro di dusseldorf peter curten è un serial killer anomalo ha compiuto i suoi spietati omicidi nell'arco di un solo anno nessun assassino è riuscito ad attirare così tanto l'attenzione del resto del mondo e ad incutere tanta paura nella popolazione in così poco tempo ha inoltre organizzato lui stesso la propria cattura e la condanna che gli è stata inferta è l'unica nella storia della germania atipico anche dal punto di vista clinico curten è stato classificato come uno psicopatico patologico sadico estremamente egocentrico e orientato esclusivamente al piacere sessuale eppure diversi aspetti del suo comportamento e della sua personalità vanno in contraddizione con le menti criminali studiate fino ad allora e con la classificazione stessa in cui è stato inserito peter curten nasce il 26 maggio 1883 a moleim un subborgo di colm come è frequente in questi anni la sua è una famiglia molto povera peter passa l'infanzia in uno squallido monolocale con i suoi 13 fratelli e con un padre alcolizzato tutto il suo misero stipendio se ne va in alcolici e ovviamente violento con la famiglia a dire il vero un po tutti i curten hanno sempre sofferto di problemi mentali e alcolismo curten senior torna spesso a casa ubriaco e costringe la moglie ad avere rapporti sessuali davanti ai figli irascibile e sessualmente disturbato l'uomo viene incarcerato ben presto per aver commesso incesto con la sorella più grande di peter 13enne probabilmente le basi degli impulsi sadici di curten sono proprio da ricondurre agli episodi violenti a cui ha dovuto assistere durante la propria infanzia all'età di 9 anni peter fa amicizia con una calappia cani che abita nel suo stesso edificio l'uomo è un pervertito mostra al bambino come ci si masturba e gli insegna a torturare i cani ciò nonostante al contrario di quanto farebbe un bambino normale ovvero evitare quell'uomo malato peter si affeziona e stringe con la calappia cani una grande amicizia le conseguenze non tarderanno a venire in quegli anni curten affoga un amichetto i ragazzi stanno giocando su di una zattera sul reno peter finge di annegare e uno degli altri si tuffa in suo soccorso una volta che è stato raggiunto peter afferra il bambino e lo trascina sotto la zattera dove lo tiene fino a che non affoga passano gli anni curten cresce e con lui la sua follia durante l'adolescenza comincia ad avere rapporti sessuali con le capre e le pecore che stanno in una stalla vicina ben presto però si accorge di provare ancora più piacere se pugnala gli animali mentre le violenta a 16 anni scappa di casa e comincia a rubare per sopravvivere finendo così in prigione per la prima volta alla fine le sue condanne totali saranno 27 per un totale di 24 anni passati dietro le sbarre soprattutto quando è più giovane in prigione è costretto a sottostare a tutte le violenze sessuali e psicologiche possibili e immaginabili non gli sarà certo d'aiuto liberato nel 1899 curten va a vivere con una prostituta masochista che ha il doppio della sua età passa le giornate seviziando la donna trasferendo finalmente i propri impulsi sadici dagli animali agli esseri umani incarcerato nuovamente petter scopre che la prigione è il luogo ideale per sognare ad occhi aperti sogna rapporti brutali ammazzamenti perversioni estreme inevitabilmente appena liberato compie la sua prima aggressione sessuale su una ragazza nei boschi di grafenberg curten è sicuro di averla uccisa ma non è mai stato ritrovato il corpo probabilmente la ragazza è strisciata via il giorno dopo e ha tenuto per sé quel terribile segreto ogni volta che viene incarcerato petter comincia a fantasticare e quando viene liberato si sfoga sulla società il primo vero assassino del futuro vampiro di dusseldorf è dunque da collocare nel 25 maggio 1913 a köln curten ha passato l'intera primavera rubando specializzandosi in rapine ai bar e furtarelli in taverne e locande in questa particolare sera petter sta sorvegliando una locanda di köln sulla wolf strasse come d'abitudine passa qualche ora a giro vagando per le stradine circostanti poi decide di passare all'azione fa irruzione nella locanda e sale il primo piano l'ispezione si rivela umiliante non c'è niente che valga la pena rubare e petter sta per andarsene amareggiato quando aperta la porta dell'ultima stanza vede una ragazzina di dieci anni addormentata nel suo letto curten agisce distinto afferra la ragazzina per il collo e la strangola con forza la bambina non reagisce nemmeno passa direttamente dal sonno all'incoscienza è già morta quando il mostro le sbatte la testa contro lo spigolo del letto il vampiro però non è ancora soddisfatto prima violenta con le dita la giovane vittima quindi le taglia la gola con un pugnale e beve il sangue che ne esce tre minuti di follia allo stato puro bere sangue sarà una costante nei suoi futuri onicidi mentre il mostro se ne torna a casa felice e ha pagato i coniugi kline rinvengono il cadavere della povera christine è pallidissima ha due ferite sulla gola una profonda due millimetri e una nove centimetri si è morsa violentemente la lingua unico indizio sulla scena del dilitto è un fazzoletto con sopra cucite le iniziali pk sfortunatamente il padre di christine kline si chiama peter e le indagini prima puntano sul povero genitore quindi sul fratello di questo infine si chiudono senza risultati il giorno dopo kurtin è di nuovo a moleim a bere una birra nel caffè di fronte alla locanda kline tutti parlano dell'avvenimento con indignazione e sgomento ciò provoca un forte piacere nell'uomo che si sente onnipotente e inafferrabile dopo un'infanzia malsana e una giovinezza forse peggiore l'impulso sadico del vampiro è ormai maturo la sete di sangue che ne scaturirà porterà il terrore nella città di dusseldorf gli otto anni successivi 1913 1921 peter li passa in galera condannato per svariati crimini una volta uscito si sposa e trova un lavoro permanente in una fabbrica si lancia anima e corpo nelle trade union e diventa un attivista politico quelli tra il 1921 e il 1925 saranno quindi quattro anni di vita normale e rispettabile per kurtin forse gli unici della sua esistenza nel 1925 il fatto lo riporta ad usseldorf e ancora una volta come se fosse il catalizzatore delle sue inclinazioni criminali la città risveglia il vampiro che c'è in lui il tramonto era rosso sangue al mio ritorno ricorderà kurtin in sede di processo e per lui ciò non può essere altro che un segno del destino per ben quattro anni l'assassino riesce a controllarsi dedicandosi a incendi dolosi e crimini di poco conto ma è solo un preludio agli orrori del 1929 il 9 febbraio 1929 il corpo di una bambina di otto anni rosa liger viene ritrovato sotto una siepe è stata pugnalata ben 13 volte e l'aggressore ha tentato di bruciarla con la benzina senza successo le tracce di sperma sulle mutandine indicano che l'autore dell'omicidio ha eiaculato senza bisogno di coito sei giorni prima nella stessa zona un uomo aveva aggredito a coltellate una ragazza fra alcune 24 i colpi totali poi l'uomo era scappato non essendo disponibili i nomi di alcune ragazze coinvolte nella vicenda ma solo i loro cognomi faremo ricorso all'appellativo frau che corrisponde più o meno all'inglese mrs purtroppo gli investigatori non hanno l'accortezza di tenere sotto stretta sorveglianza i luoghi delle aggressioni pet era infatti il vizietto di ritornarci spesso durante le notti per ricordare le scene dei crimini e per provare orgasmi a ripetizione senza muovere un dito solamente cinque giorni dopo l'assassinio di rosa o liger un certo scare meccanico 45enne viene trovato pugnalato a morte in una stradina di flinchern 20 coltellate soprattutto sulla testa il giorno seguente come da copione curten ritorna sulla scena del dilitto e alla faccia tosta per attaccare bottone con un agente per informarsi sulle dinamiche del caduto a complicare ulteriormente le indagini ci pensa stausberg un noto ritardato mentale del posto arrestato mentre inseguiva due ragazze armato di un cappio stausberg confessa alla polizia di essere l'autore di tutti i delitti di febbraio e viene internato al manicomio criminale così quando ad agosto ricominciano le aggressioni la polizia apre un fascicolo nuovo su di un pazzo nuovo tutto il materiale raccolto nelle precedenti indagini è perduto il 21 agosto nel soborgo occidentale di lierenfeld tre uomini vengono pugnalati nella stessa notte mentre tornavano a casa tutte e tre le vittime hanno incrociato casualmente curter hanno augurato gentilmente la buona sera e in cambio hanno ricevuto una pugnalata tra le costole e la schiena appena cala la sera del 23 agosto 1929 l'intera popolazione si riversa allegramente sulle strade e nelle piazze per festeggiare la fiera annuale dell'antico borgo di flea sono circa le 22 32 sorelle adottive gertrude amacher di 5 anni e louis lenzen di 14 anni lasciano la fiera e cominciano a dirigersi verso casa senza accorgersi che un'ombra nascosta tra gli alberi le sta seguendo quando finalmente l'ombra è sicura di essere sola con le bambine esce allo scoperto saluta e chiede un favore a louis saresti così gentile da andarmi a comprare delle sigarette io nel frattempo starò attento alla tua sorellina e il 1929 sono altri tempi altri modi di pensare non esistono i maniaci e i mostri o meglio ci sono proprio come adesso ma la gente non lo sa viene così a mancare nelle bambine indifese quel pizzico di diffidenza che non è mai dannoso louis accetta con un sorriso prende i soldi e si reca dal droghiere lasciando la sorillastra nelle mani del vampiro di dusseldorf kurt in strangola gertrude amacher le taglia lentamente il collo con un tagliacarte e si nasconde nella boscaglia quando louis torna con le sigarette viene trascinata a forza tra gli alberi strangolata e decapitata il pomeriggio seguente una bella ragazza gertrude sculte viene avvicinata da uno sconosciuto l'uomo attacca bottone e le propone senza troppi convenevoli di avere un rapporto sessuale con lui preferirei morire piuttosto è la quanto mai fuori luogo risposta di gertrude muori allora grida peter mentre si appresta a pugnalarla gertrude sculte miracolosamente sopravvive all'aggressione e riesce a fornire una descrizione sommaria dello sconosciuto un uomo di bell'aspetto di età indefinita forse 40 anni secondo gli esperti medici che seguono il caso con la polizia curtain è ormai arrivato all'apice sessuale la ferocia e la frequenza dei suoi crimini può solo aumentare esponenzialmente infine asseriscono con sicurezza che il vampiro ha perso ogni controllo dei propri impulsi sadici e potrebbe finalmente cadere in errore tradirsi ci sono arrivati a metà il vampiro ha sì perso il controllo ma per il momento non sembra intenzionato a commettere clamorosi sbagli a settembre una giovane idere uter viene stuprata e picchiata a morte il 12 ottobre un'altra ragazza elizabeth dorriere viene trovata morta il 25 ottobre fraume uter frau wanders vengono aggredite a colpi di martello il panico in cui cade dosserdorf in questo periodo è paragonabile solo a quello causato da jack lo squartatore nella londra di fine ottocento il 7 novembre gertrude alberman 5 anni scompare due giorni dopo il quotidiano cittadino freedom riceve una lettera con tanto di mappa che spiega dove si troverebbe il cadavere della piccola le indicazioni purtroppo si rivelano veritiere gertrude è veramente sepolta vicino al muro di una fabbrica strangolata e colpita da 35 pugnalate gertrude alberman sarà però l'ultima vittima del vampiro di dusseldorf tra il febbraio e il maggio del 1930 continuano le aggressioni tentativi di stupro strangolamenti colpi di martello ma tutti gli sventurati coinvolti riescono a uscirne divi la polizia organizza un'immensa caccia all'uomo senza precedenti tuttavia basta il fatto che l'assassino cambi troppo spesso il modo di agire per compicare irrimediabilmente le indagini la popolazione è terrorizzata e spazientita il vampiro è latitante più folla che mai un serial killer anomalo non poteva che essere catturato in una maniera anomale e casuale il 14 maggio 1930 maria buglick abbandona la sua colon dove è soltanto una domestica disoccupata e decide di spostarsi nella vicina dusseldorf in cerca di fortuna alla stazione viene avvicinata da un uomo che si offre volontario per portarla al più vicino ostello femminile l'uomo si rivela ben presto un po' stravagante insiste per fare una strada non illuminata e maria che non è nata ieri ricordando i recenti eventi di cronaca nera si oppone con tutte le sue forze attirato dal litigio interviene un uomo che scaccia prontamente il potenziale aggressore e si accerta delle condizioni della donna maria buglick è rimasta sola con il suo salvatore peter curten il vampiro offre alla ragazza ospitalità nel suo appartamento di metmanner strasse ma maria rifiuta teme che le verrà chiesto un rapporto sessuale in cambio del letto in cui dormire decide comunque di seguire l'uomo che si offre per accompagnarla a una locanda ma non è così curten conduce maria fin dentro i boschi di graffenberger qui la ferra per il collo e la costringe ad avere un rapporto con lui a sorpresa maria accetta non oppone resistenza viene condotta all'appartamento di curten e a rapporto completato l'uomo la riaccompagna con un tram alla stazione è tranquillo e soddisfatto sicuro che non la rivedrà mai più maria buglick al contrario ha una memoria di ferro e il 21 maggio 1930 peter curten se la ritrova sotto casa al 71 di metmanner strasse dove l'aveva portata una settimana prima cosa è successo per capirlo dobbiamo fare un passo indietro il 17 maggio maria scrive una lettera a una sua amica frau bruchner nella quale racconta la propria disavventura per un errore delle poste la lettera viene però recapitata a frau bruchman che si allarma e denuncia il fatto alla polizia interrogata a lungo dagli investigatori maria buglick decide di collaborare e conduce il capo ispettore gennata all'edificio di metmanner strasse la donna riconosce immediatamente l'atrio del palazzo mentre la padrona di casa assicura di aver affittato a un certo peter curten l'appartamento incriminato incredibilmente nessuno si accorge invece dello stesso curten che mentre gli investigatori si accingono ad ispezionare le stanze scende le scale con un cappello calcato sopra gli occhi e si allontana velocemente lungo la strada il vampiro ha ormai capito che il suo arresto è inevitabile un tentativo di stupro sommato alla sua sporca fedina penale potrebbe costargli almeno 15 anni di lavori forzati perciò si decide a raccontare tutta la storia a sua moglie secondo quanto ha scritto curten stesso in un suo diario lo fa la mattina del 23 maggio e la moglie dopo aver sentito la confessione si dispera non perché suo marito è uno stupratore non perché suo marito rischia la colonia penale la moglie di peter si dispera perché la carcerazione del marito per lei significherebbe una vita di stenti disoccupazione fame comincia anche a meditare il suicidio e non lo nasconde al consorte anzi lo invita a seguirla peter curten scioccato per la prima volta in vita sua passa il resto della giornata meditabondo fino a quando verso sera si rivolge così a sua moglie io posso aiutarti l'uomo confessa alla propria moglie di essere il famigerato vampiro di dusseldorf le racconta ogni singolo omicidio per risultare più credibile possibile quindi le spiega che la polizia ha promesso una ricca ricompensa per la cattura del killer con quei soldi lei potrebbe vivere tranquillamente per molti anni le basta denunciare il marito alla polizia frau curten non è troppo convinta non vuole tradire il marito in questo modo infame ma è peter a spuntarla il 24 maggio 1930 frau curten racconta tutta la storia alla polizia degli agenti speciali assediano immediatamente la casa dove risiede il vampiro sono armati fino ai denti e sono pronti a sparare nel caso l'uomo tentasse la fuga verso le 15 sotto il sole primaverile curten esce di casa sorride non c'è motivo di allarmarsi tanto e si consegna alle forze dell'ordine una volta sotto arresto curten confessa tutto con straordinaria franchezza al professor karl berg eminente psicologo tedesco che scriverà poi sul vampiro un trattato dal titolo il sadico berg ammette che peter curten è dotato di una cume affascinante e che la sua memoria funziona in maniera straordinaria tanto che ogni crimine viene ricordato e raccontato fin nel minimo dettaglio questo quando l'assassino deve parlare di omicidi e altre violenze cose per lui gratificanti dovendo parlare invece di questioni d'altro tipo la memoria di peter mostrano un poche incongruenze e buchi neri l'omicida detta direttamente allo stenografo ogni singolo omicidio ogni singola aggressione e più sono inorridite le facce dei testimoni più è alto il piacere che prova non tradisce nessun sentimento di colpa o pentimento vuole solo accertarsi che si ha assicurato un ricco futuro per sua moglie la donna che non ha mai amato e che ha tradito per tutta la vita ma che come egli stesso confessa ha sempre ammirato per il suo splendido carattere il processo si apre il 13 aprile 1931 con l'imputazione di 9 omicidi e 7 tentati omicidi per 63 aggressioni tra cui altri tre omicidi non ci sono prove sufficienti l'imputato è vestito in un abito immacolato con i capelli impomatati pulito e con degli occhialetti da uomo di affari e assiste al dibattito chiuso in una cella antifuga mentre alle sue spalle è stato allestito una sorta di museo degli orrori con un campione di reperti legati alle sue atrocità teschi coltelli martelli insanguinati forbici corde vanghe utilizzate per seppellire cadaveri e un corpo intero con evidenti ferite ci vorranno ben due mesi per convincere curter a confermare la propria confessione la moglie ha ormai ricevuto la ricompensa e l'uomo non ha più interesse nello smascherarsi ma alla fine cede nuovamente i dottori più brillanti e famosi della germania lo analizzano e concludono che l'imputato è sempre stato perfettamente responsabile e cosciente delle proprie azioni secondo loro inoltre curter ha agito per vendicarsi sulla società delle sofferenze patite in prigione e durante l'infanzia durante le deposizioni in tribunale l'uomo racconta la propria vita soffermandosi sugli omicidi con una freddezza e una tranquillità tali da rendere vano ogni disperato tentativo del suo difensore il dottor vener per ottenere l'infermità mentale la giuria impiega un'ora soltanto per emettere il verdetto l'imputato peter curter è ritenuto colpevole per tutti gli atti d'accusa ed è pertanto condannato nove volte alla pena di morte una sentenza unica nella storia della germania la pena capitale prescelta per il vampiro di dusseldorf è la ghigliottina il 2 luglio 1932 il vampiro di dusseldorf viene condotto al patibolo una ghigliottina eratta per l'occasione nel cortile della prigione statale di cringe il puzz alla classica domanda sul proprio ultimo desiderio peter curten ha così risposto al boia mi potrebbe dire se dopo che la mia testa è stata tagliata sarò ancora capace di sentire almeno per un brevissimo attimo il suono del mio sangue che sgorga dal ceppo del mio collo e dopo un attimo di pausa ha aggiunto ciò sarebbe per me il piacere di tutti i piaceri curten è un enigma senza soluzione arman uccideva solamente uomini l'andrue grossman solamente donne peter ha ucciso invece uomini donne bambini animali ha ucciso qualsiasi cosa abbia trovato sul suo cammino dottor venner psichiatra e avvocato difensore di peter curten scritto da daniele del frate trasformato in audiolibro dall'eresiarca grazie per l'ascolto grazie